Mi chiami? Sono Marciao, sono Marcia Forentino e arrivo dalla Repubblica Dominicana. Cosa fai? Io sono ballerina, presentatrice, organizzatrice di eventi, attrice, faccio di tutto. Parlaci, dov'è che hai presentato? Allora, io come attrice ho fatto forum, sto facendo un film che lo finirò da poco e ho lavorato un po' in tv con Gerry, Scotti, ho fatto un sacco di cose. E programmi che pensi di fare in futuro? Sì, adesso devo presentare un programma latino che si chiama Musica Latina Show che iniziamo a registrare da poco. È un programma tutto mio, ideato da me, faccio tutto io. Dove? Dovremmo registrare le quattro stagioni a Cinistello-Varsamo, è sempre un ristorante. Andrò in giro in tutto il ristorante a registrare con i ragazzi latini e non solo latini. Faremo anche una cultura italiana, faremo cultura sudamericana e anche cultura italiana. E poi viene trasmesso in qualche zona? Sì, verrà trasmesso su Tele Milano, Tele Lombardia, canale 288. Sai già in che periodo? Guarda, noi dobbiamo già iniziare lunedì prossimo la registrazione, quindi fra una settimana già vedrete il nostro programma già in onda. Ah, interessante. Poi per quanto riguarda le canzoni, tu canti? No, io non canto perché se mi sentite cantare scappate tutti, però mi ritengo una brava ballerina. Io ho un gruppo di ragazze e ragazzi dove facciamo spettacolo brasiliano soprattutto, spettacolo latino. Io diciamo che sono più sul latino, anche se che la samba me la cavo un attimo. Ma come mai la samba non fai il ballo tipico latino americano della Repubblica Dominicana? Ma guarda, io ho cominciato a lavorare con i brasiliani da dieci anni. Mi trovo benissimo con loro e allora ho unito questo gruppo cubani, dominicani, brasiliani, per cui ci troviamo da Dio. A me piace tantissimo. Iden, la danza del ventre, non è la mia danza, però io la sento in estante. Ah, sei mai stata il festival latino americano? Ma certo che sì, certo che sì. Diciamo che in questo periodo non so, da tre anni che non ci vado più perché ho altri impegni, però in passato ci ho lavorato al festival latino. Ok, collaborazioni varie? Collaborazioni varie, adesso sto collaborando con Mediaset e adesso faremo un po' di sorprese che non posso dirvi. Ok, allora nell'attesa ti salutiamo e buon lavoro allora. Grazie. Ciao. A prestissimo.